Assessore Fabio Buscio, lei è vicepresidente e anche assessore ai lavori pubblici. Quale progetto state seguendo al momento? In questo momento abbiamo avuto la fortuna, diciamo, che dopo il grande successo del riciclabile Valli Resilienti, praticamente una Greenway di Valli Resilienti che è iniziata qualche anno fa, ultimamente con il bando di Regione Lombardia, che è uscito, abbiamo fatto a marzo, abbiamo avuto la fortuna di aver presentato un progetto valido dove praticamente noi potevamo andare a cogliere le richieste di cinque comuni, Lumezzane, Concesio, Villa Carcina, Tavernole e Comuni Pezzazze, dove abbiamo avuto la fortuna su un progetto di 2 milioni e 900 mila euro, la Regione ci ha finanziato 2 milioni e 400 mila euro circa. È un intervento che andrà a completamento di punti importanti perché ci sono dei punti che non riuscivano a collegare tutta la Greenway. Interverremo su un pezzo di provinciale, un bypass che verrà fatto nel comune, tra Villa Carcina e Concesio per ovviare i problemi che abbiamo. Un altro pezzo, dei pezzi importanti nel comune di Lumezzane, che si andrà praticamente a collegare, a perfezionare tratti di ciclabile. Un altro pezzo molto importante di viabilità, sempre a Tavernole, in località Pila. Un altro grosso problema che avevamo tuttora, ma fortunatamente l'anno prossimo, avendo avuto la fortuna di vincere questo bando, sarà nel comune di Pezzazze, dove anche qua avevamo un tratto che passava proprio in mezzo al paese di Lavone. Adesso con un intervento faremo praticamente prolungheremo la ciclabile dalla località Rebecco, non passerà più diciamo in mezzo al paese e andrà praticamente a collegare un tratto importante, perché è uno sbocco verso il collo di San Zeno e avendo uno sbocco verso il collo di San Zeno, lago di Sè.